che ci farà un breve discurso sottorico sulla lotta della donna per raggiungere le varie dignità. Buongiorno a tutti, saluto in particolare la professoressa Paiares, presidente della FIDAPA della sezione Penisola Sorrentina, le autorità presenti, il presidente della Suprema Curta di Coassazione il magistrato Ferdinando Opposimato, tutti quelli che hanno accolto il nostro invito, in particolare le ragazze e i ragazzi. L'argomento di oggi, donna e legalità, è un forte piano da condividere alla necessità del rispetto della pari dignità tra uomo e donna. E' emblematico e quindi l'8 marzo. La celebrazione dell'8 marzo è un voler conoscere che cos'è l'8 marzo. L'8 marzo del 1857 le donne lavoratrici protestavano per avere diritti a misura d'uomo. furono disperse dalla polizia tra la folla. L'8 marzo del 1908 un'altra protesta collegata al movimento Pane e Rose dimenticava la necessità di condizioni di lavoro umane, la posizione del lavoro minorile e il diritto al voto. Il 9 marzo a New York, 1908, nella fabbrica Cottonmouth, 129 donne furono asserive perché dopo una serie di giorni di proteste per appunto rivendicare condizioni di lavoro migliori, furono chiuse all'interno di questa fabbrica, alla fabbrica fu a piccato il fuoco e quindi muorirono approcciate. Nelle vicinanze di questa fabbrica c'era un albero luminoso. Questa bellissima infiorescenza che è un sicuro per me tragico e luminoso nello stesso tempo. Tragico perché ricorda la morte di tante donne, luminoso perché l'espressione della necessità, della validignità. Rosa Luxemburg propose di celebrare questa giornata, di ricordare, quindi l'8 marzo è diventata l'espressione per eccellenza della difesa dei diritti delle donne. Difesa dei diritti delle donne significa rispetto della validignità tra uno e donna, come fonte di arricchimento, non lotta tra i sessi. e in realtà mi piace ricordare, forse anche in apositiva, si legge, No, non è un'esercito, non è un'esercito, non è un'esercito, è un'esercito. E in realtà mi piace ricordare, e in realtà mi piace ricordare,